Ma sto, stavo pensando che il fatto che noi non facciamo le fatture, cioè non è che sia il massimo, anche perché ho fatto uno stage adesso con il professore di economia in marketing, sì, e lui mi diceva fare le fatture è importante, se no l'economia si ritrova da un momento all'altro in una situazione stagnante, e se l'economia si ritrova in una situazione stagnante, il reddito si blocca, e se il reddito si blocca non potrete godere ai fini previdenziali di una vecchiaia serena, giustamente, non avendo dei contributi versati. Dì al professore che se si fa i cazzi suoi, ognuno fa una vecchiaia che vuole, capito? Ognuno è il suo, capito? No, vabbè, comunque, a parte che sono anche laureato, ho finito l'adrennale, credo che sia giusto anche per il mio ruolo, non solo, sì, mantenere i feri, mantenere i tubi, mantenere la vita, te, salto qua. Mantenere la vita, che comunque, mantenere la vita è importante, che dice il mastoduo? Che dici? Che differenza c'è tra la vita e la vita? Che differenza c'è tra nessuna? Nessuna, nessuna, perché se perdi la vita, che perdi pure la vita? Perché il mastoduo ti picchi, quindi attenzione. Attenzione, io mantenere, comunque anche... Telefono. Ah? Il telef... Il telefono! Non c'è, non c'è, non c'è... Ah, mo ti chiamo... Ti chiamo trappo! Aia, 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 non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è! Sì!